Aspettami, dimmi. Ok, sembra che stai guardando l'orizzonte. Sì. Eh no, sto cercando di non guardare l'orizzonte. In questo momento il mio orizzonte sei tu. Ma Boris 3, ecco, quando esce? Quando lo vediamo? Boris 3, per quello che io so, che è poco, esce a ottobre dell'anno di quest'anno, l'ultima serie. Eh, dai, tutti, guarda, a proposito di Boris 3, ecco qua, ecco qua. No, è la più bella del mondo. Lo giriamo luglio, agosto, settembre e vai in onda a ottobre. A ottobre, finalmente. Ultima serie, ultima serie. Veramente, è l'ultima, ma com'è possibile? Guarda, io ne farei 150 e vorrei morire come Molière facendo Stanis, però ho la sensazione che o mi suicido a fine di quest'anno oppure non succederà. Galeotto, il set di Un amore di strega, dove Pietro ha conosciuto Alessia Marcozzi. Gira voce che tra i due ci sia una relazione, dopo che sono stati paparazzati alle tre di notte mentre uscivano da casa di lui. E basta, ti ho detto tutto. Amore di strega a marzo, penso. Boh, non lo sanno, se lo sono preso quelli di me, dei set. E' molto carino, no? Boh, forse sì. Ti avete sentiti su questo set, amore? Siete innamorati? Che volete di più? Ma chi, ma queste sono... Eh, ma infatti, nostro carissimo alias Stanis Pietro, ma su voci, su chiacchiere, tu sei molto riservato. Esatto, noi infatti non parlo. Guarda, la verità è questa, che io dichiaro dal 2002 che la mia vita privata non esiste. Ho capito, infatti mi hanno fracassato i coglioni, per cui ho capito che non era... No, ho capito che incubo... Perché io l'ho già una volta l'intervista. Io, guarda, anche se io l'ho detto, non mi ricordo, il giorno che mi vedete con quattro figli per mano, mi potete chiedere, ma chi ha la madre? E io vi dirò il nome, o del mio matrimonio. Prima non esiste niente, non esiste niente. Poi, soprattutto, siccome sono uscite tante cose in questo periodo qua... Tanta, Alessi ha parlato. No, ma che ha parlato? No, Alessi gliele mettono in bocca le cose. Ah, io ho parlato, io non ho parlato mai. Eh, glielo chiedo perché c'è questo gossip. No, sei uscito alle trenta notte da casa tua, l'hai vista in quelle foto? Vedrete notte che c'è l'ora, che buia ai cinque l'inverno. Che no, dagli tutti, a cazzo dei cane, dagli tutti. Ah, come si chiama? Starlit. Starlit? Starlit TV. Dagli tutti, che questo è il tipo del futuro.